Al Quirinale stamane la prima riunione delle due commissioni di saggi nominati dal Presidente della Repubblica Napolitano. Si discuterà di riforma dell'assetto istituzionale e di politiche per la crescita e il rilancio dell'economia. Il lavoro dei dieci esperti, precisa il Colle, sarà informale e limitato nel tempo. In lieve calo il tasso di disoccupazione a febbraio 2013, meno 0,1% rispetto al mese precedente. Lo comunica l'Istat, che però rileva come i senza lavoro siano aumentati dell'1,5% su base annua. Caso Marot, l'ordinanza che impediva l'ambasciatore a New Delhi Mancini di lasciare il paese è stata revocata dalla Corte Suprema indiana. Il governo intanto ha affidato le nuove indagini sull'uccisione nel 2012 di due pescatori indiani all'Agenzia Nazionale di Investigazione. Preparerà un dossier da consegnare a un tribunale speciale. È stata avvelenata dalla mamma la bimba di tre anni, morta ieri nel brindisino. La donna, ora in coma dopo aver tentato il suicidio lanciandosi nel vuoto, le avrebbe fatto bere del diserbante. Oggi l'autopsia. La Nord Corea riavviera presto tutti gli impianti del complesso atomico di Yongbyon, che era stato affermato nel 2007 nell'ambito dei negoziati con Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone. La forza nucleare è una garanzia a tutela della nostra sovranità, ha detto il leader Kim Jong-un, definendo nemici Washington e Seoul. Rinviato al febbraio 2014, il processo a James Holmes, il 25enne, che uccise a Denver 12 persone alla prima del film di Batman nel luglio 2012. La pubblica accusa ha annunciato di voler chiedere la pena di morte, nonostante l'ammissione di colpevolezza dell'imputato. Lotteremo in tutti i modi, ha detto il suo legale. Roma e Milano danno l'addio a Franco Califano e a Enzo Iannacci. Stamane, nella chiesa degli artisti di Piazza del Popolo, le esequie del cantautore romano, morto sabato scorso all'età di 74 anni. Nel pomeriggio, nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, i funerali di Enzo Iannacci, poi la sepoltura al famedio del cimitero monumentale.